Già sapevo che finiva innanzitutto, perciò ero un po' insomma, a parte gli scherzi, ho letto un computer, perché lui mi ha mandato tutto il libro tramite tre computer, scomodo, è più bello leggere il libro, dà più gusto, però mi è piaciuto, poi all'inizio che ho letto prima lui è il pezzo forse più bello, dici cose, no, dici cose che neanche sapevo, date che io neanche mi ricordavo e situazioni, analogie che non avrei mai pensato, e poi la cosa più bella è il fatto che dentro ci siano, ci siano oltre tanti altri personaggi, grandissimi, di quanto me, tutto quanto, parli di tantissima gente che io miro, amato, ne amo ancora, e messo in mezzo anche persone che per me sono importantissime, ma io stavo, prima di loro, io parlavo di quando dicevo, chi ha scritto il libro, prima di te, chi ha visto, chi ha visto il giornalatore, la persona, non prima di tutti noi, è stato lui, mi fa un piacere enorme, rivedermi, mi fa un piacere enorme, rivedermi, per favore, mi ha visto la prossima vita, e lui era insomma, rivedermi, a tutti, vi controllai di stasera, ma, leggere, leggere il libro, leggere l'Antonio, e tu fai tutto in base a quello che gli ho detto, ma io quando gli ho detto che il piano c'è la vita, sono dieci anni di amicizie, di storie mi fa piacere perché io da oggi mi ha fatto vedere molto leggerle sul libro quindi parlare di me forse mi è piaciuto tanto perché parlare di me magari non è grazie quindi a te la conclusione voglio ringraziare tutti e spero di partire perché ho fatto un grandissimo reale un realo che io non ho scontato fotografare ci hanno tutte nostre neri quindi poi ringraziare le ragazze della gruppa Sludze che sono lì grazie a tutti grazie a tutti tranquillamente per chi ancora no è una cosa meravigliosa ma bancarella la rende ancora più notica il bancarella hai capito il che ha senso? e allora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti